Sais Getters ha deciso di veicolare attraverso un partner certificato, un progetto di SAM, per venire incontro a quelle che erano le esigenze di compliance e di verifica del perimetro installato dei prodotti Microsoft distribuiti sulle N società facenti parte del gruppo Sais Getters. Stiamo parlando di un parco installato di più o meno 500 postazioni client, di un centinaio di server distribuiti geograficamente tra Italia e Stati Uniti. L'attività si è svolta sostanzialmente in tre fasi principali, una fase preliminare di definizione del perimetro, una fase preliminare sulla carta di definizione del perimetro della SAM, per cui individuazione delle società, individuazione dei client e dei server oggetto della SAM. Una seconda fase di rilevazione attraverso strumenti informatici messi a disposizione dal partner dei prodotti software Microsoft installati sui client e sui server oggetto del perimetro e una terza fase, direi la fase più corposa e più faticosa, che è stata quella dell'analisi e definizione di quelli che erano i gap dichiarati da Sais rispetto a quelli gap che erano stati dichiarati da Microsoft. Software One sicuramente si è dimostrata la società che ha saputo meglio interpretare le esigenze di Sais Getters nella ricerca della compliance del licensing Microsoft ed è stata quella che sicuramente ha condotto le attività nella maniera più professionale possibile evidenziando la capacità in prospettiva di riuscire a poter gestire anche un'attività di SAM dinamica che Sais Getters sta sicuramente prendendo in considerazione, dovendo chiaramente noi centralmente gestire tutta la parte di licensing per le società del gruppo. Per quanto riguarda Microsoft direi che sicuramente è una società assolutamente abilitante per quanto riguarda gli strumenti di Office Automation e chiaramente società di riferimento per quanto riguarda l'infrastruttura server di Sais Getters sulla parte sistemi operativi e database. Le risultanze della SAM ci hanno sicuramente dato degli enormi benefici dal punto di vista della verifica del parco installato, della distribuzione geografica delle licenze installate sulle realtà del gruppo Sais. dall'altra sicuramente una evidenza di quello che era all'interno del gruppo Sais il livello di installazione dei prodotti Microsoft, per cui si sono evidenziate le differenti versioni installate per entiti dei diversi prodotti e questo ha consentito a Sais Getters di avere una visione chiara di quello che era la fotografia del gruppo e di fornire attraverso delle guidelines agli IT locali la possibilità di portarsi ed adeguarsi agli ultimi livelli dei prodotti Microsoft per le release supportate. Dal punto di vista, l'altro aspetto che sicuramente va tenuto in considerazione è stato il fatto che avendo una percezione estremamente chiara degli strumenti di Office e della pervasività degli strumenti di Office Microsoft all'interno dell'architettura si sta considerando la possibilità di valutare eventualmente un upgrade o comunque uno step ulteriore sugli strumenti di produttività nell'ottica del cloud computing. Grazie a tutti!